La crisi amministrativa e di ritardi sul progetto di fusione dei comuni di Corigliano-Rossano produce malessere nella comunità. Cresce il numero degli incerti rispetto alla città unica, mentre si fa spazio il movimentismo antifusionista. L'invito è al senso di responsabilità tanto alla classe politica quanto alla comunità, partendo dalla netta separazione tra il progetto in essere e chi governa la città. Nella consapevolezza che il malcontento unisce i due momenti. È chiaro che se c'è un livello politico-amministrativo che entra in crisi, non entra soltanto in crisi l'amministrazione, entra in crisi anche il concetto di fusione. Perché al giudizio politico-amministrativo di questa giunta viene inevitabilmente, soprattutto da parte dei datatori della fusione, affiancato il concetto di fusione. Per cui coloro che sono contro la fusione, che sono stati contro la fusione, alimentano questo aspetto. E allora è chiaro che la gente deve distinguere la prospettiva della fusione dall'attuale amministrazione comunale. La prospettiva è il messaggio che lancia? Io mi auguro, non ho nessun precedizio nei loro riguardi, sinceramente. Guardo anche con serenità l'azione amministrativa. Capisco che non è una cosa facile, capisco che non è una cosa che può portare dei risultati dall'oggi a domani. L'unico rimprovero che faccio è quello che non hanno compreso o colto l'importanza storica di questo evento. Cioè immaginare queste due città che per millenni sono state distinte e separate, paralleli, amiche e nemici nello stesso tempo, che inaugurano una stagione così importante, quella della fusione e quindi di un'aggregazione ambia e ricca, vederla sfiorire, evidentemente c'è qualcosa che non va. Lei cosa avrebbe fatto al posto dell'amministrazione Stasi? Covid, emergenza rifiuti, emergenza sanitaria, giustizia, depurazione, acqua? Lei cosa avrebbe fatto? Questi sono i problemi della quotidianità, che vanno affrontati con grande determinazione. Io capisco che questo è l'aspetto che più assorbe l'attività amministrativa, perché la quotidianità, le urgenze, sono una cosa non di poco conto. Con questa cornice lei cosa avrebbe fatto? Io avrei affiancato all'azione concreta la capacità di far capire al popolo dei rossanese, del popolo di Corigliano, che la fusione è qualcosa di importante, che è guardata anche con una certa scadenza, con una certa lungimiranza, che questo evento doveva cogliere l'amministrazione comunale ancora più preparata rispetto al coinvolgimento delle classi politiche, del territorio, delle popolazioni. Io capisco che nel momento della pandemia non si è potuto neanche riunire, ma cogliere queste cose per poterle inserire dentro una prospettiva, e la prospettiva deve camminare parla di passi con la popolazione che deve credere a questo evento. Ebbè, forse su questo è mancata il coinvolgimento, è mancata una visione ampia. Un'ultima battuta. Senta, le conosce, come dicevo prima, le due città, le due realtà, le due mentalità. Ci sono nostalgici da una parte e dall'altra. Ma c'è anche una sorta di vittimismo in una certa coriglianesità. Nonostante il sindaco dica, ad esempio, che sono stati destinati più fondi a Corigliano e non già a Rossano e altri interventi più su Corigliano e non già su Rossano, c'è una parte di Coriglianesità che mira sempre a rivendicare, forse per retaggi anche storici, perché Rossano ha avuto sempre uffici e adesso non ne ha più. Ma c'è questo condizionamento psicologico in una parte della comunità coriglianese? Cioè, esiste oppure è una valutazione errate? Io credo che esista. Non ho dubbio ad affermare che c'è questa rivendicazione di una certa coriglianesità. Capisco benissimo che il compito di qualsiasi sindaco rispetto a questo tipo di approccio è molto difficile. Comprendo anche il fatto che ci sono delle lamentele, a volte motivate, a volte non motivate. Si coglie a volte una certa disparità. Ma non lo dico in termini polemici, non lo dico nemmeno in termini... A favore dell'una o dell'altra città? Dico che molto probabilmente forse non si ha la forza e la consapevolezza di affrontarle alcune questioni. Molte cose, anche banali, si possono affrontare con un minimo di saggezza e con un minimo di razionalità, io dico. Perché a volte spesso alcuni piccoli problemi si possono risolvere con poche soluzioni, con soluzioni abbastanza semplici. Allora, siccome il percorso è un percorso legato in questa prima fase all'armonizzazione delle due comunità, che avverrà non a breve scadenza, che avverrà con un percorso, io dico, abbastanza lungo e quindi di conseguenza una consapevolezza piena anche del fatto che il processo di fusione non è un processo a termine, perché armonizzare le due comunità comporta del tempo, ma bisogna parlare questo linguaggio, bisogna far credere che i presupposti sono questi, bisogna avere il coraggio, la forza, la determinazione nel dire siamo in una fase iniziale e in questa fase iniziale dobbiamo colmare delle carenze. Probabilmente Corigliano ha maggiore carenze rispetto a Rossano sul piano infrastrutturale, per tutta una serie di ragioni storiche che non sto qui ad arrencare, ma è un tema che va affrontato a viso aperto, non dentro una logica di bilancino o di armonizzazione fino a se stesso, ma dentro il coraggio di affrontare amministrativamente questi aspetti ed è un pezzo del ragionamento. Poi ci sono i grandi e le grandi vicende, Corigliano Rossano deve diventare sempre di più un punto di riferimento per l'intero territorio, lo è nella sostanza perché il resto del territorio si rivolge a Corigliano Rossano per le dinamiche economiche, per le dinamiche amministrative, per tutta una serie di fattori che in sé questa città ha, ma deve diventare invece punto di riferimento sul piano politico-amministrativo, ideale, cioè noi dobbiamo immaginare questa città come idealmente una sorta di capoluogo politico-culturale di un intero territorio, questo manca nella discussione, questo io non ho registrato elementi positivi in questa direzione da parte degli altri comuni piuttosto che piccoli, piuttosto che medi rispetto alla grande città di Corigliano Rossano, non c'è stato neanche come dire una sorta di affiancamento alle politiche del territorio e su questo probabilmente c'è stata una carenza, dicono, lo dico anche qui, non viene a polemica, non mi interessa, voglio dire la vivo con grande serenità questa stagione, quindi io credo che c'è da fare un lungo percorso, un percorso però con serenità, con lucidità, con una vedutezza che oggi mi sembra di capire non c'è.